In questa Catechesi parleremo brevemente del Corpus Domini. Anzitutto l'espressione latina vuol dire Corpo del Signore, ed è in pratica il ricordo, la memoria devota dell'Eucaristia. Il Corpo del Signore è esattamente questo. Il Corpo del Signore è esattamente questo. Il Corpo del Signore è esattamente questo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.